Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesto alla trapanese. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono pomodorini tagliati a metà, pecorino, parmigiano, mandorle pelate, pinoli, basilico, aglio senza anima, olio evo, sale e pepe. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano, il pecorino ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le mandorle, i pinoli, l'aglio ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Aggiungere il basilico, i pomodorini, il pepe, il sale e l'olio. ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 7. Il pesto è pronto, trasferire in vasetti di vetro. Pesto alla trapanese, ideale per condire la pasta o farcire bruschette. Si conserva in frigo per 7 giorni. Grazie e alla prossima ricetta! Ciao! 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 Ciao!